Il Carnevale a Sciacca si svolgerà da giovedì 8 a martedì 13 febbraio, nessun altro fine settimana, né prima né dopo, come invece è successo negli ultimi anni, per scelta della precedente amministrazione. Manifestazione dunque concentrata unicamente nei giorni previsti da calendario. Sembra essere questo l'orientamento del nuovo assessore al turismo, Filippo Bellanca, che questa sera incontrerà i carristi per iniziare a pianificare la festa. Quattro mesi di tempo e non c'è sicuramente da stare sereni, visto che ancora non c'è traccia del bilancio, che deve essere prima approvato dalla Giunta, poi passare all'esame dei revisori dei conti e delle commissioni competenti e infine approdare il Consiglio Comunale per il via libera definitivo. Non ci sono i tempi tecnici per apportare grandi novità, già dichiarato ieri al nostro telegiornale il nuovo assessore, evidenziando che di conseguenza si continuerà ad utilizzare proventi dell'imposta di soggiorno, ma con importi che saranno ridimensionati rispetto al passato. Da parte degli operatori c'è ovviamente il timore che tutto questo si traduca in una sforbiciata dei premi e l'aspetto economico sarà ovviamente al centro dell'incontro con l'amministrazione comunale. Ma il carnevale non può prescindere dal bando di partecipazione e probabilmente anche quest'anno si dovrà procedere all'emanazione entro il mese di ottobre, anche se il bilancio, come si prevede al momento, non dovesse ancora essere stato approvato. Circostanza avvenuta proprio lo scorso anno e che non poche polemiche aveva generato con la copertura finanziaria dell'evento assicurata a pochi giorni dall'inizio della manifestazione. Non ci sono però alternative se si vuole concedere almeno qualche mese agli operatori del settore per preparare i carri che dovranno sfilare da sabato 10 a martedì 13 febbraio, solo quattro giorni perché il giovedì e venerdì precedenti dovrebbero essere dedicati alle scuole e alle sfilate dei gruppi mascherati. Il carnevale 2018 dovrebbe riportare alla manifestazione anche i mini carri che sono stati esclusi negli ultimi anni dal bando aperto solamente ai carri di categoria A. Non solo l'orientamento al momento è quello di azzerare le voci relative a concerti, fuochi d'artificio e testimonial. Solo gruppi mascherati e carri anche per ridurre i costi della manifestazione. E a proposito di costi e di gestione della manifestazione, l'assessore Bellanca ha confermato che ci sarà un bando pubblico aperto ad associazioni e società che vorranno collaborare con l'amministrazione comunale. Null'altro, nonostante si sia parlato in questi mesi dell'ipotesi di una direzione artistica affidata a Giuseppe Ingenito, che per anni è partecipato al carnevale di Sciacca, così come sono arrivate da altri artisti locali disponibilità a collaborare con la nuova giunta. Si parte però dal verificare la disponibilità dei protagonisti della festa e carristi nel corso della riunione in programma questa sera.